Raga qui è tutto pronto per l'Octoberfest, SpaceTourer 9 posti c'è, vediamolo subito Ecco qui il profilo laterale della versione Business XL con i cerchi in lega raga che stile Questo raga all'interno passeggeri, come vedete ci sono 9 posti, ci sono anche le bocchette dell'aria E qui i tre sedili con il guidatore e i due passeggeri E allora tutto pronto per l'Octoberfest, Citroen SpaceTourer a 9 posti Lo spazio sicuramente non manca su Citroen SpaceTourer 2.000 di cilindrata con 150 cavalli, questo con motore diesel Euro 6, cambio manuale C'è l'Advanced Grip Control, c'è lo stereo, la possibilità di connettere il proprio dispositivo, di effettuare chiamate, streamare la musica, tutto quanto Ci sono delle prese USB, prese da 12V, il clima bizona, un pochino di scorta Non poi così banale il bracciolo al sedile guidatore e i cerchi in lega da 17 pollici È davvero una bomba, c'è un sacco di spazio perfetta per i viaggi, per grandi uscite in compagnia Insomma, se siete alla ricerca di un veicolo multispazio come Citroen SpaceTourer Andate subito su rattiauto.com dove troverete queste e tantissimi altri veicoli multispazio In base alle vostre esigenze Chiamateci, whatsappateci, mandateci una mail Siamo disponibili 24-7 In ogni caso vi aspettiamo in showroom A presto, ciao!